segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e poi nato mannheimer buongiorno grazie di essere in studio con noi non capita quasi mai e anche portato la sua grappetta questa è una garanzia certo portato è una garanzia certa di esattezza delle previsioni ma la prima volta in studio me la sono portata dietro così sono sicuro di quello che dico quando ne hai bisogno te la porgo ho già bevuto un sorsino prima per prepararmi del masso è contento siamo in piena sovranità alimentare grappa italiana tutto a posto e difatti è il senso esatto di quello che diceva il ministro lollo brigida sulla sovranità alimentare che tanto scandalizza la sinistra che si dimentica peraltro che è il medesimo ministero che c'è in francia ecco insomma ah